Con la maniera numero 6, Alessandro, Urmaio, con la maniera numero 7, Marco, Encio, con la maniera numero 8, Patrizio, Brunga, con la maniera numero 9, Jonathan, Beretz, con la maniera numero 10, Sotriam, Camini, con la maniera numero 11, Tommaso, Papini, a disposizione con la maniera numero 12, Runga, Elvati, e oggi in punta dei, forse, la Runga 6! Andiamo, 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 facciamo sordeggio, poi passate voi, Cap, che mi piace, c'è scegliere all'ospite. Oh! Oh! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti